Ciao a tutti, sono Emanuele Caruso, sono il regista e il produttore del film A Rivedere le Stelle. Dovevamo uscire a marzo del 2020 con questo documentario al cinema, ma ahimè, non avevamo fatto i conti con la pandemia da Covid-19, che di fatto ha stroncato sul nascere la distribuzione di questo film. In questi due lunghi e anche difficili anni, in tanti ci avete chiesto di poterlo comunque vedere magari online, ma ci piaceva l'idea che A Rivedere le Stelle potesse essere un'occasione di dialogo e di confronto in un luogo magico come il cinema. Proprio per questo siamo felicissimi di annunciare che finalmente, dopo due lunghi anni, A Rivedere le Stelle sarà nei cinema a partire dal 3 marzo 2022. Mi rendo perfettamente conto che arriviamo da due anni intensi, difficili, dove il mondo è cambiato completamente, sono cambiate anche le nostre abitudini. Il Covid-19 era un'emergenza per la quale nessuno di noi era pronto. Ecco, A Rivedere le Stelle nasce su un'altra emergenza, che sarà ancora più profonda di quella del virus, che è quella del cambiamento climatico. In questi anni, in questi decenni, abbiamo sfruttato troppo questo pianeta, abbiamo consumato troppo le sue risorse, abbiamo inquinato oltre ogni limite e il nostro stile di vita, in qualche modo, farà sì che questo pianeta, nei prossimi anni, verrà a chiederci il conto, che lo vogliamo oppure no. Su questa esigenza, su questa riflessione nasce A Rivedere le Stelle, un viaggio a piedi di sette giorni, con dei protagonisti d'eccezione, per cercare di cambiare la nostra visione e il nostro modo di ragionare. Trovate tutta la programmazione del film A Rivedere le Stelle sul nostro sito web, stellefilm.it. Oltre alla normale programmazione, c'è la possibilità da parte di chiunque di poter richiedere questo film nel cinema della vostra città. Tutto ciò che dovete fare è andare sul sito stellefilm.it, cliccare sul tasto Organizza una tua proiezione e contattarci. L'unica cosa che chiediamo al pubblico è di essere un piccolo gruppo, un piccolo numero minimo, che in qualche modo possa aiutare la sala a coprire i costi necessari per la proiezione. Noi siamo Obiettivo Cinema, una casa di produzione e distribuzione piemontese del tutto indipendente e viviamo esclusivamente del passaparola. Questo è un film che riguarda tutti noi, riguarda il nostro futuro, sia che vogliamo interessarcene o meno. È un qualcosa con cui dovremo fare i conti e quale luogo migliore per cercare una soluzione e una nuova strada tutti insieme del cinema. Per cui, se volete, vi aspetto in sala.